buongiorno come stiamo oggi mamma bene benissimo con una botta in più ecco e tiriamo avanti a testare i camminetti ecco andiamo avanti vai mamma allora questo piccolino fa solamente ti tarangi far quello che dopo mi vado via che brava ti è in duro ma se io grattare eccola ma se non metto neanche a sola allora dunque vediamo mamma moia che fa riflesso moia che fa riflesso non mi fa niente tutti diversi tutti diversi tien duro che guardo il bonus zero benissimo mi scuace pronti vai mamma toccati va bene subito no 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 va così perché sennò dopo tocca girare tutto a via non sono ancora esperta va bene cominciamo 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 subito qui vuota niente vai vai sull'altra un cavallino dai vai non ho idea niente no niente ora andiamo da un altro qua che se la manina e manine e manine che se oh beh manine che se dopo dopo ti gratti qua dopo qua si si spetta no che voi si va bene non importa che ho visto avanti su qui arrivo in ritardo fisioterapia autonomica riole cosa sono questi? sigaretette? no niente questo no buo sarà 4 euro aspetta aspetta no 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 sei diverso niente mamma niente niente gratti qua che vedremo cosa che ti ha vinto qua oi là 8 euro la madonna bene 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 8 euro portai a casa con le manine oh ti sei contenta? vediamo vediamo quanto contenta Ciao! Ciao a tutti! Anche stamattina ho portato a casa il soldino. Eccola, brava, sì. Ciao, buona giornata. Ci vediamo in giornata che devo fare il video per l'Anna e cucino la zucca. Ciao, ciao, ciao.